Ecco i termini nei quali si svolse la drammatica storia di Tosca. Nell'anno 1800 vivevano insieme al barone Scarpia i suoi collaboratori, questurini, guardie, picchiatori e dame, le uniche di cui non si hanno notizie. Sono loro le protagoniste di questa commedia. Per carità, io sono una donna felice. E se vede? Nell'intimità. Oh signora, il discorso casca sempre lì. Ma quant'è zozza questa ora? Quello con quel nome strano non me lo ricordo. Il buco. Non è il buco. E il solaio. A scala, boh. Uè, che carino eh. Signore Argento, non è concio e con ste mani. Ma chi ha strellato Vittoria? Ma il Vittori, il cavaradossi. E va a letto con una tosca. Leonangelo, quell'uomo lì. Ma tanto l'antica. Aaaaaaah. 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 Su marito. Da come che lo conosco io. E' meglio non farla arrabbià. Ma per un'artista, vè, uno solo è difficile. Ma pure per la mignota. Pensare che mi aveva detto preciso così. Topina, topina. Ma che c'è sta il sorcio? Ci ha preso un furore. Oh, oh, oh. Un furore. Ma mi ha picchiata eh. Guarda che morello, poveretto. Ma che mi sta a fare delle gosce? Ma tocca questo piede. Bello, bello Emilia. Mi aiuti a dire bello. Bello. O chiamano Castel Sant'Angelo. Del demonio dovrebbero chiamà. Aaaaaaah.